pronti per una straordinaria avventura unisciti a noi aurora musli bagui bambù dj dopo essere sfuggiti alla prova del fuoco prezzemolo i suoi amici sono arrivati all'oasi della crudele morgana dove altre dure prove li attenderanno avete visto ci sono due soli in cielo no pagui una è la luna lo schermo magico che protegge l'oasi lo fa sembrare un sole qui vedi è sempre giorno siamo riusciti a passare lo schermo senza danno vuol dire che morgana ci ha atteso una trappola accidenti ci siamo cascati per colpa di tj è vero tj ha un brutto carattere ma non può essersi alleato con zenda siamo comunque in mezzo ai guai non abbiamo neanche avuto il tempo di recuperare gli elementi ehi non mi sembra il caso di tremare di paura sono allergico all'acqua musli ha perso il raffreddore si dice preso pagui venite a vedere cosa ha detto vendite vendite dov'è il momento di scazzare l'oasi di morgana impossibile da raggiungere io non vado d'accordo con gli scorpioni sono pesce trascendente cancro sono nella mia oasi zelda quando avrò riattivato la barriera di magia sarà il trappola è troppo presto per cantare vittoria gli elementi sono ancora in mano di tj come io penso che morgana recupera gli elementi magici o sarà stato tutto inutile perché accontentarsi di qualche spicciolo con la magia posso diventare il padrone dell'universo diventerò re non ho che dico imperatore ma molto di più molto di più mi sono dimenticato di inserire il pilota automatico questi congegni elettronici mi fanno impazzire prima quella seratura e adesso la globosfera per fortuna posso manovrarla dal laboratorio grazie alle cellule fotoelettriche poste all'interno della navetta dunque vediamo oh no la globosfera è appesantita meglio alleggerirla un po missione compiuta ora devo trovare prezzemolo è arrivato il momento di cambiare il joystick prezzemolo sei sicuro di voler andare da solo se vogliamo sorprendere morgana questo è l'unico modo voi due spostatevi su quelle dune e tenetevi pronti ad agire ci vediamo tranquilla ti teniamo d'orecchio si dice ti teniamo d'occhio a presto bene e adesso dividiamoci ognuno al suo posto aurora usa la magia musli vola veloce se io sono un bersagliere facile aiuto ma che strano è sparito tutto questo cono ha funzionato in maniera anomala dovevo diventare invisibile invece sparito tutto il resto via speriamo che almeno questo funzioni era solo un'apparizione però la piramide crea effetti speciali niente male cosa un'altra apparizione non sono un'apparizione ma io dovrei andare un attimo finalmente gli elementi saranno presi dammeli sono miei non li avrai mai questo lo vedremo molla ti ho detto molla no no lo vedo io lo prendo appena un attimo ti trasformi in raspa guardate dobbiamo aiutarli non puoi competere con me non so capito gioco per favore ai regione a gui così non aiutiamo prezzemolo questa gianno ha funzionato di nuovo Maledizione, sono io che devo sparire! Basta, mi sono stancato! Devo scomparire al più presto, mi raggiungerà! Troppo tardi! Non è ancora finita! È andata! Questi sono miei e li voglio! Dammeli! Ho vinto! Cavala del tasso, diventa di sasso! Bravissimo, prezzemolo! Adesso che abbiamo i tre elementi, non resta che trovare la sfera magica! È il momento di agire! Non per me, sono troppo raffreddata! Va bene, Musli resterà qui! Pagui, portami alla tenta di Morgana, ora è troppo occupata per badare a noi! Sono qua! Non scuscherai! Siamo quasi arrivati! Non posso ammutilare! Vorrei dire atterrare, Pagui, ma non preoccuparti, ci penso io! Salto giù e vado a cercare la sfera magica! Ok! Sono sfacciato! Si dice sfacciato! Vabbè, allora! Che luogo inquietante! Un arredamento dei gusti discutibili, direi! Bene! Per il momento sembra non ci siano problemi! Chissà dove può tenere nascosta la sfera magica una strega! Ah, ci sono! Può camuffarla in una sfera di cristallo! Sì, sì, è lei! Lo sento! È un modello troppo vecchio! Ma che mi importa? Non è certo la sfera magica che mi serve! Eppure deve essere qui! E quello cos'è? Eccola! No, è soltanto una noce di cocco! Stavolta non hai scampo! Addio, principessa! Oh, sì! Questo sì che è un joystick serio! Adesso piloterò alla grande! E vai! Oh, che cos'è? La globosfera è tornata! Se non riuscissi a prenderla... Ok, adesso devo entrare! Non posso crederci! Mi è sfoggeta! Ce l'ho fatta! Ora devo controllarla! Ed ora noi due, piccola Morgana! Quel drago è maledetto! Ehi! No! Sto male! Sto veramente male! Ora sì che sto veramente, veramente male! Lasciami! Basta! Mi orrendo! Sofro di verticili! Ti accontento subito! Buon viaggio! Allora, come ti senti, Musli? Un raffreddore... Ah, giusto male! Oh, mi dispiace tanto, Musli! Tieni, soffiati il naso! Sono proprio nei pasticci! Aurora e Pagui sono scomparsi e tu hai il raffreddore! Accidenti, Musli, e questo che cos'è? È il mio raffreddore! È una mappa! Una mappa del mio raffreddore? Ma no, Musli! Questo è un mistero! E dobbiamo scoprirlo! Sofro di vorzzo! E dobbiamo scoprirlo! Sofro di vorzzo! Sofro di vorzzo! Sofro di vorzzo! E dobbiamo scoprirlo! Grazie a tutti.